buongiorno amici oggi giornata di nuovo un po nubolosa come potete vedere un po così in teoria doveva esserci il sole però almeno non piove speriamo che non piova torniamo alla nostra spiaggetta vicino al molo in teoria questa sarebbe una spiaggia non si potrebbe fare spiaggia libera qua abbiamo visto anche ieri il cartello oggi abbiamo saputo da un signore che faceva che stava facendo lei vuole che qua gente ha preso la multa per aver messo l'ombrellone noi infatti ieri eravamo gli unici ad avere l'ombrellone aperto grazie a dio non è successo che ci abbiano dato la multa ma comunque ci sono più di 300 euro di multa se si mette se si piazza l'ombrellone qua tanto di oggi non abbiamo bisogno come potete vedere no spiaggia libera c'era anche il cartello hai cambiato idea è una piscina è una piscina sì è fredda ah quindi hai cambiato idea anche perché è andato via un po' il sole ne abbiamo proprio le palle piene veramente cioè basta di sa storia previsioni che fanno cosa vogliono l'altro giorno doveva diluviare poi non ha diluviato per carità meno male ieri che doveva essere bello ci siamo svegliati completamente coperto oggi idem non c'è più proprio più parole spiagge deserte cioè per essere estate veramente abbiamo già detto ma è quindi non lo so è troppo fredda sì oggi è fredda l'acqua è vero però dai se prendiamo una cerni stasera non abbiamo mangiato la pizza ma ci mangia la cernia io ho capito stai meglio con il cappello madonna ma quanto profondo ti sei messo mamma mia o stai intossicando ascoltami col cappello o senza il cappello ma col cappello fa pandan coi pantaloncini infatti l'ho preso a posto come vuoi come ho comprato insieme a posto ma è troppo largo cioè è troppo stretto allargalo un po' non mi entra basta allargarlo bella raga tech toto toto quindi sto con meglio con questo si mettiti il cappello ma sei benissimo col cappello e senza infatti sono proprio le mezzanotte tra un po' Siamo alla pizzeria Excalibur di Spotorno, le recensioni sembrano buone, stasera cena fuori. In questa pizzeria c'è un bel dehors, vedete c'è tutta la parte fuori, il pozzolo in mezzo, è molto carina, adesso vediamo anche le pizze come sono, sono arrivate le pizze, pizza romana, la mia con le acciughe, le olive e i capperi, sì che serve più alla sicola però, speriamo di avere abbastanza acqua in camper, dicevo speriamo di avere abbastanza acqua in camper perché qua con le acciughe e i capperi fa bere questa pizza. Quella di Lorenzo, pizza McDonald's con salsiccia, pomodoro, mozzarella e patatine. E quella di Salvatore, pizza saporita con la salsiccia e i peperoni. assaggio, 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 è buona Lori? Sì, dice sì. Lora com'è stata sta pizza? A me è piaciuta molto, poi era molto ben farcita, si sentiva il gusto delle acciughe, dei capperi, a me è piaciuta molto. Buonina dai, buonina, buonina, io non dico ottima perché per me la pizza, una pizza deve avere il cornicione, pizzaioli, la pizza non esiste senza cornicione. Eh no, non aveva tanto il cornicione. Ok, la vera pizza deve avere il cornicione, punto. Questa qui era proprio piatta completamente. A Lorenzo è piaciuta anche. Tipo le pizze da supermercato. Su gelate, per i celiaci. Invece Lorenzo ha preso la pizza. McDonald's. Dai, descrivici la pizza. Comodoro, mozzarella, patatine e salciccia. Eh? Salciccia. Salciccia. Ok. Comunque se ne è sbaffata tutta, eh? Comunque a me è piaciuta, boh, ognuno giudichi. Vi metto comunque in descrizione l'indirizzo del ristorante, si chiama Excalibur. Fa anche pesce, ristorante, non solo pizza. Forno a gas, eh? Sì, non è forno a legno. Perché così è contento che vuole forno a legno. Belin. Belin. Ormai è diventato ligure. Ah 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 ah. Bene, adesso andiamo a mangiarci un gelato, eh? Sì. Dopo la pizza siamo venuti in questa gelateria che si chiama Sagapo. Non si vede bene da lì. Mamma mia, spettacolo. Ma il gelato è... eccolo lì, lo insegno. Sagapo. Gelateria e iugurteria. Il gelato è uno spettacolo, veramente. Eh, sbrodolino. Sì, sbrodolato. E la salciccia di prima. Sbrodolino. Il mio male è che quando mi alzi, va... è in silenzio. Mamma mia, sto cono, spettacolo. Buonissimo. Sono venuto a prenderlo già ieri sera con Lorenzo che ci è rimasto in campo perché non aveva voglia di uscire. Siamo venuti a farci un giro in bici e siamo venuti a prendere il cono qua. Qua è buonissimo il gelato. Anche di questo vi mettiamo l'indirizzo sotto in descrizione. Spettacolo. Il pistacchio che sa proprio di pistacchio. No, no, veramente è eccezionale. Viola che sa molto di viola. Per me il salato che sa molto di caramezzato. per me, eh, poi. Beh, scivolo. Belin. Un po' di vita a questo momento. Ballate! Ballate! Buongiorno amici. Oggi giornata stupenda qua a Spotorno. Purtroppo è l'ultimo giorno che siamo qua. Oggi pomeriggio ripartiremo per le nostre zone. Riporteremo Lorenzo a casa. E niente, ci godiamo ancora questa mattinata al mare. per coltare. Un po' di giro. Un po' di giro. Un po' di giro. Un po' di giro. oggi siamo venuti qua nella spiaggia libera non siamo più andati sul molo perché c'è il sole che picchia e là non si possono mettere gli ombrelloni come vi ho già detto spuntino pannuozzo 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 per Lorenzo e per me il mini pannuozzo anche per me era un mini pannuozzo ecco i qua che sono in acqua io oggi il bagno non lo faccio più mi sono data solo una rinfrescata nella doccia qua giusto perché ho caldo allora avete giocato un po' sì ma solo che senza scarpette ti spacchi i piedi eh beh sì fa male le pietre adesso lo lascia guarmi dai stiamo partendo qua da spotorno come siamo usciti dal nostro parcheggio che siamo stati qua otto giorni otto giorni ci hanno preso subito il posto come siamo usciti otto giorni senza pagare tutto in libera sì oh già Lorenzo sta facendo merenda ha quasi finito il suo panino sì e si ritorna a casa perché Lorenzo ha degli impegni dei provini dei provini di calcio se vuoi spiegare te Lori se vuoi se no lo dico io lo dici te? no ah sta masticando sta masticando vabbè adesso ve lo facciamo spiegare da lui allora ho due provini perché mio papà li hanno chiamato delle squadre provini di che cosa? di calcio hanno chiamato delle squadre sabato e domenica quindi ho questi impegni qua di andare a fare questi provini e non potevo mancare perché sì perché per il calcio dell'anno prossimo praticamente eh sì sono quasi tutti da te deve trovarsi la squadra dell'anno calcistico del prossimo anno la squadra nuova la squadra nuova eh sì d'essere